Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre prossimi la Festa Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia a Barrea, in Abruzzo, all'interno del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. La manifestazione è stata presentata nella sede di Pescara della Regione alla presenza dell'assessore al turismo Mauro Febbo, del sindaco di Barrea Andrea Scarnecchia, del direttore del Dipartimento del Turismo, Cultura e Paesaggio Francesco Di Filippo e di Gianfilippo Mignogna, vicepresidente e vicario dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia. La decima edizione della Festa Nazionale rappresenta l'occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze turistiche, culturali e enogastronomiche. Il tema di questa edizione è il paesaggio testimone del valore comunitario. La scelta l'aveva fatta l'Associazione Nazionale, ma io credo che abbia fatto bene a scegliere la location, perché è una location che ha una serie di punti di forza importanti. Si trova nelle zone interne, all'interno del parco e all'interno del parco è una che ha uno specchio d'acqua che negli ultimi anni si è rilevata da sempre con un alto tasso di limpidezza, di purezza. E credo che sia un punto di forza e di importanza. Non so quante altre località possono vantare questa tipicità. Ecco perché credo che sono contento, perché rappresenta uno specchiato dell'Abruzzo interno importante, che va segnalato, che va potenziato e che credo che ci possa far fare bella figura a livello nazionale. Durante i tre giorni di festa a Barre è prevista anche la presentazione della guida a viaggio nei borghi d'Abruzzo, promossa dall'assessorato al turismo nell'ambito del progetto Initinere, cammini e percorsi e loghi di eccellenza nel centro Italia. Verrà presentata la guida ai borghi d'Abruzzo, nella sua interezza, un lavoro che finalmente arriva al termine. Ringrazio gli uffici per averlo portato a combimento. Diamo la possibilità, credo ai pochi abruzzesi che non conoscono tutti i borghi. Comunque lo diffonderemo bene in Abruzzo, ma anche fuori Abruzzo, perché chiaramente c'è necessità che ci sia attrazione di queste località.